Digit Export è la piattaforma che informa e assiste le imprese per esportare, sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali. Digit Social è lo strumento che valuta la tua presenza online. Analizza le modalità di gestione dei tuoi canali social e genera un report per migliorarne i contenuti e la promozione sui mercati internazionali. Accedi ai servizi, iscrivendoti alla piattaforma tramite l'apposito form online o attraverso il tuo account Google, Facebook o LinkedIn. Riceverai due e-mail, la prima di avvenuta registrazione, la seconda di attivazione del servizio. Avvia ora il questionario di analisi del tuo profilo social. Dovrai rispondere a domande relative ai 5 pilastri di valutazione della presenza social, quali comunicazione, customer care, organizzazione, contenuti e pubblicità. Scopri l'analisi del tuo profilo. Scarica il report di valutazione della piattaforma o consultalo comodamente nella tua casella e-mail. Guarda le pillole formative dedicate al tuo livello, video lezioni sintetiche ed esaurienti che ti possono aiutare a ottimizzare le prestazioni dei tuoi canali social. Vuoi saperne di più? Consulta le schede di approfondimento. Ti aiuteranno a migliorare i contenuti, la promozione, il rapporto con gli utenti e l'utilizzo dei canali social per i mercati esteri. Digitexport, il tuo riferimento sui temi dell'export digitale. Digitexport è un progetto di Promos Italia. Digitexport è un progetto di Promos Italia.